Buongiorno e benvenuti a tutti e per me e ovviamente per l'Accademia che temporaneamente rappresento come direttore è un onore avere Emilio Sgro in occasione di questa Lex Magistralis organizzata dalla professoressa Sanna. Ovviamente non c'è nessunissimo bisogno di presentare Emilio Sgro tutti noi conosciamo il suo lavoro specialmente a Milano anche adesso ultimamente la grande installazione è realizzata da Yulman e per me e frequentazioni siciliane anche quelle organizzate attraverso una fondazione che si chiama Radice Pura a Giarre che sta portando avanti un progetto architettonico paesaggistico molto importante dove appunto la grande scultura di Emilio Sgro rappresenta un po' il centro attraverso cui si sviluppano per diverse ettari diciamo di queste installazioni paesaggistiche sia di architetti e dopo Emilio Sgro anche di artisti però lui è un po' come si dice oggi nel linguaggio televisivo il testimonia di tutta questa grande fondazione. Io passerei subito la parola al maestro anzi alla professoressa Sanna che fa una breve introduzione e poi vi lascio in buone mani ovviamente per la letta magistrale. Grazie ancora. Io ho scritto qualche appunto e ringrazio tutti di essere venuti e in primis il maestro Sgro e poiché non volevo saltare troppi passaggi allora mi permetto di leggere qualcosa. Allora oggi abbiamo l'onore di ricevere un ospite d'eccezione un'artista di riconosciuto talento e di fama internazionale, Emilio Sgro. Mi sono davvero molto grata di aver accettato l'invito a tenere una lezione magistralis nella nostra accademia, lezione che ci permetterà di entrare nel vivo della sua opera senza intermediari dei interpreti. Un'opera estesa e articolata, intrigante e acuta, nella quale si difede il pensiero di un artista la cui vicenda e la cui portata non sono riassumibili in una manciata di parole. Emilio Sgro, siciliano di Barcellona a Pozzo di Gotto e da vari lustri residenti a Milano, è artista, letterato, intellettuale, giornalista, drammaturgo, il cui repertorio si estende alle arti visive, alla scrittura, alla regia, alla musica. Isgro è anche un oratore sopraffino, qualità di cui si pregiano le sue numerose conferenze e di cui si è certamente pregiata la sua longeva esperienza di professore presso la Nava di Milano, della quale, se non ricordo male, fu anche membro fondatore. Già enfant prodige per la sua straordinaria curiosità e vivacità culturale, lettore attento e scrittore prolifico, Isgro ha dato vita fin dagli anni 60 a un'opera incisiva ed evoluzionaria che gli ha valso diverse partecipazioni alla Biennale di Venezia e il primo premio alla Biennale di San Paolo. Molte le istituzioni di prestigio che hanno esposto i suoi lavori a Londra, Parigi, New York, Venezia, Milano, Roma, dal MoMA alla Fondazione Guggenheim, dall'ANIAM al Palazzo Reale di Milano, per citarle solo al mondo. Iniziatore delle famose cancellature applicate su enciclopedie, manoscritti, libri, mappe e perfino pellicole cinematografiche, Isgro ha fatto di questa pratica il perno di tutta la sua ricerca. Ecco allora opere di forte impatto visivo e concettuale come, tra le altre, il Cristo cancellatore, le cancellature dei promessi sposi, dell'enciclopedia treccani, della Costituzione italiana, del debito pubblico, del manifesto del futurismo, eccetera, eccetera. Ricordo anche le sue opere monumentali, dense di memoria storica, letteraria e, mi permetto, affettiva, come il monumento al seme d'arancia, il ricordo a Giovanni Testori, dove comincia il ponte della Ghisolva, basso rilievo donato alla città di Milano. In ambito espositivo, molteplici sono le mostre che lo hanno visto protagonista. Tra queste occupa un posto di rilievo, l'ora italiana, intensa installazione dedicata alla strage di Bologna, oppure dichiaro di essere il milieu sgro, tenutasi al centro peggi, che ribalta l'affermazione dello stesso artista, scritta nel 1971, di non essere Emilio sgro. Ricordo ancora l'ultima antologica alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, Emilio sgro, impermiata sul romanzo Moby Dick, che lo stesso artista ha così commentato, sarà come entrare nel ventre di Moby Dick, nel ventre dell'inconscio globale della società attuale. Mi piace anche citare in questa sede le mostre concentrate su protagonisti della musica, come la veglia di Bach, in collaborazione con il teatro alla Scala, oppure Chopin, partitura di cinque pianoforti presentata a Milano alla Rotonda Besana, e ancora Guglielmo Telli, che costituì una sala personale alla Biennale di Venezia del 93. Se, come ebbe a dire Schwarz, non c'è dubbio che il destino di sgro fu la cancellazione, è altrettanto in dubbio che il destino di sgro è anche la scrittura, intesa come produzione teorica, letteraria, poetica, teatrale, giornalistica, produzione nella quale l'artista si misura con la lingua italiana e con i dialetti siciliani, con la realtà e la finzione, con la prosa e la poesia, con l'antico e il contemporaneo. A questo prezioso repertorio appartengono l'avventurosa vita di Emilio sgro, la cancellatura e altre soluzioni, come difendersi dall'arte e dalla pioggia, autocurriculum, oltre al raccolte per il teatro, Gibella del martirio, Agamennoli, l'orestea di Gibellina, Giovanna d'Arco, tragedie elementare, oppure ancora il raccolte di poesia, Chiere del Sud, l'età della ginnastica, oratorio dei ladri, brindisi all'amico infame, quel che resta di Dio, di cui poi annunceremo la presentazione successivamente. Concludo dicendo che artista a tutto tondo, Emilio sgro è provocatore e irriverente, penetrante e sensibile, profondo e complesso, e profondamente intelligente, nonostante l'ipsetixit, l'intelligenza non sia una qualità di cui l'artista debba bondare. Intanto grazie al direttore dell'Accademia, Il Provane, che così gentilmente mi ha presentato a voi, grazie alla dottoressa Sanna, che mi ha voluto qui, e grazie a voi tutti, che manifestate un certo interesse per questa Lectio Magistralis, come viene un po' annunciata. Cosa che mi spaventa, perché io sono riuscito ad accumulare una certa quantità di crediti verso la vita, sostanzialmente facendo cose piccole, ma con una tale passione che diventavano grandi. In questo senso, come artista, credo di poter accampare un dato interessante di fronte a voi, perché secondo me l'artista deve far diventare grandi le cose piccole, e non come purtroppo a volte accade, far diventare piccole le cose grandi. Succede anche questo nel nostro mondo. Perché non vorrei fare una vera Lectio Magistralis? Perché io amo parlare e colloquiare faccia a faccia a faccia. E quindi mi diverte molto vedere, intanto dall'elenco che è stato fatto, come un uomo pigro quanto me sia riuscito a produrre tante cose. Perché ho dovuto combattere contro la voglia di ozio che mi portavo dentro? Sono pigro. Non si direbbe, quindi da questo punto di vista, fate bene ad accogliermi così felicemente, perché sono proprio un fenomeno, un uomo pigro che ha costruito cose che non pensava di essere in grado di fare. Ma perché sono riuscito a costruirlo? Perché ho vissuto prima da uomo e successivamente, secondariamente, da artista. Mi piaceva troppo la vita per poter considerare l'arte qualcosa di assolutamente superiore al resto del vivere. vivere è più difficile che fare gli artisti. E quindi bisogna rispettare, molti di voi un giorno saranno artisti, lavoreranno comunque nel campo della creatività, che in questo momento vede Milano che siamo, non da oggi evidentemente, in una posizione internazionalmente di punta. E quindi se si vive, si dipinge meglio, si scrive meglio. Perché vivere significa avere anche passione per le cose che ci circondano, per le persone e, in fin di conto, anche per se stessi. Certo, non è il caso, io sto facendo una chiacchierata, poi loro possono domandare, non è il caso, sto parlando un po' a ruota libera, di chiedere a tutti gli artisti di essere uguali, anzi è bene che siano diversi, che si vedano le differenze. Perché la qualità di differenza dell'arte e l'artisticità consiste proprio, la poesia, nella qualità di differenza rispetto al resto del mondo che ci circonda. proprio la qualità di differenza è quella che arriva al pubblico, quando vede cose effettivamente inaspettate. Però le cose inaspettate devono avere, voi intanto guardate le immagini, poi mi... devono avere un fondamento reale, cioè non si fa fumore con le trovate. La trovata può andare bene una volta, due volte, ma poi sulla trovata bisogna costruire un mondo, un universo nel quale ciascuno di noi si possa rispecchiare. Immaginiamo che a un certo punto Lucio Fontana sia andato a sbattere con un suo quadro contro lo stipido di una porta e la tela si sia lacerata. Ah, che bella idea! Faccio i buchi, trovo una strada per me, come spesso fanno gli artisti, hanno bisogno una cifra. ma Fontana non fece soltanto questo, perché altrimenti non sarebbe stato l'artista che è stato. Lui, su un incidente di percorso, probabilmente veramente vide una tela sfondata, può succedere, costruire un sistema compositivo di ferro, dove si passa da certi tagli perfetti e puliti, bianco su bianco, che un po' arieggiano ciò che accadeva alla Galleria Il Milione negli anni 30, una certa aria astratta, ma poi trascorrono, ed ecco che il mondo si apre, in baroccheggiamenti, pensate quando lui altera i buchi, soprattutto i buchi o gli squarci, portando il discorso della sua opera a quella misura barocca che aveva probabilmente imparato a conoscere assieme alla hispanidad nell'Argentina, dove era andato a vivere con suo padre, mi pare, no? Quindi la bellezza di Fontana e di un artista non è quello di essere esteriormente coerente, e quello di esserlo internamente, perché voi capite che fra un taglio purissimo di Fontana degli anni 60 è un'opera piena di pietruzze e gioiellini che sembrano caduti dalla luna, e c'è una differenza abissale, proprio a livello formale, una è un'opera sostanzialmente barocca, una è un'opera astratta. Ecco, questo tipo di contraddizione l'artista deve viverlo fino in fondo. So che cozza perfettamente con la visione del mondo che hanno certi personaggi del mondo dell'arte, per cui l'artista deve ripetere eternamente un cliché. lo può fare, se si chiama Morandi può farlo, perché ogni minima variazione effettivamente crea un mondo nuovo. Però se non è Morandi diventa noioso. Questo accade a molti artisti. Quindi dobbiamo guardarci, io parlo qui, molti sono allievi, quindi magari vogliono sentirsi dire queste cose da me, sono studenti. Dalla mia esperienza io credo che un artista, la sua prima capacità è quella di sapersi contraddire. Ma sapersi contraddire non significa tradire i principi, significa innescare quei meccanismi dialettici, una volta c'era la dialettica, adesso è passata di moda, che in qualche modo consentono al mondo di andare avanti, sia nella cultura, sia nelle arti, e forse anche nella politica e nell'economia. Prendiamo il mondo della politica. Manca un reale spirito di contraddizione, come manca nel mondo dell'arte. Io ricordo che qualche anno addietro, se c'era un film americano e uno lo vedeva e non gli piaceva e lo diceva in giro, passava subito per un nemico degli americani. Quindi non si poteva dire neppure male di un brutto quadro se veniva dagli Stati Uniti. Ora è chiaro che grazie a Trump si dice male anche troppo dell'America, si è passato da un segno all'altro. Questo per dire che tutti in un certo momento della nostra storia possiamo sbagliare. Noi abbiamo avuto per esempio il fascismo, ed è stato un errore bestiale, che non ci onora e speriamo che non si torna. Perché fascismo significa mancanza di rispetto per gli altri, per le opinioni altrui e per il loro esistere. Questa, diciamo, è la premessa generale. Adesso immagino, vedendo le mie opere alle mie spalle, che voi vogliate che io parlo un pochino del mio lavoro. Magari poi risponderò a qualche vostra domanda specifica, se me la farete. Ma comincio molto blandamente facendo una cronistoria della mia vita d'artista. In effetti, io non ho cominciato come artista visivo, né tantomeno come pittore. Sono crescito in una famiglia dove si faceva chiaramente della musica, della pittura, del teatro e anche della letteratura. Quindi in un certo senso sono un figlio d'arte. sono stato allevato fin da bambino a pensare e a ragionare in un certo modo. Pubblicai le mie prime poesie proprio qui a Milano, appena arrivato nel 1956, da Arturo Schivarze, che poi diventò il mio mercante, oltre che essere stato il mio editore. E a un certo punto, allora per un artista avere delle idee non era un demerito. Un'idea anche non gradevole a vedersi, se era un'idea interessante, veniva accettata se creava una discussione. parlo degli anni sessanta del novecento, cinquanta e sessanta del novecento. Polemizzare tra artisti non era un rompere le scatole, era un merito. Non essere d'accordo non era un attentato alla patria, era un merito democratico. bisognava di sentire per creare proprio livelli più alti di conoscenza e di crescita. In questo senso, quando io sono arrivato a Milano, Milano era proprio una culla. si discuteva molto, la guerra era finita da poco, da circa dieci anni, undici anni, Milano era in ricostruzione febbrile ed effettivamente allora il punto di riferimento era Parigi e si cresceva tutti insieme anche economicamente, oltre che culturalmente. Se un artista era anche intelligente, non guastava. Tuttavia, devo dire anche, spero di non essere considerato stupido, ma se fossi solo intelligente troverei dannosa la cosa. Io ho anche una buona dose di innocenza nell'occhio e nella bocca che mi consente di usare le immagini e le parole come se le vedessi o le sentissi per la prima volta. Vi dirò di più. Io capisco che una mia opera è riuscita o meno quando spaventa me per primo, quando non mi persuade. Il mio primo tentativo non è quello di distruggerla. Non sono un artista romanticamente votato al mito dell'autodistruzione, anche se qualche volta ho dichiarato di non essere Emilio Isigliano. Sono uno che vive la vita con fiducia assoluta, con la speranza che le cose possano essere mutate sempre in meglio. Insomma, per dirla più banalmente, preferisco vedere la bottiglia mezza piena anziché mezza vuota. anziché ho un difetto che se appena c'è mezzo centimetro d'acqua io credo che sia stracolma e trabocca. In questo esagero. Ma questa è una questione di temperamento. Allora, dicevo, cominciai scrivendo poesie. Le mie prime poesie furono recensite da Pasolini e recensite bene con molto favore. Avrei potuto accontentarmi se non che io sono un tipo che non si accontenta. Mi accontento soltanto quando vedo dopo il passato del tempo che il discorso funziona da solo. Allora ho la riprova che ho agito bene. È uscito questo libro accolto bene se non che nella temperia avanguardistica o neoavanguardistica di quegli anni io pur senza aderire ai movimenti all'ora di moda come il gruppo 63 per esempio ho avuto una lieve latenza con il gruppo 70 durata poco tempo anche perché in fondo non credo alle corporazioni degli artisti credo alle amicizie tra artisti ma non alle corporazioni di l'arte è un'attività sanamente anarchica dove bisogna lottare quindi è anche bene che il mercato a un artista almeno parzialmente gli sbatta la porta in taccia ma gli apre qualche finestra questo sì se no la porta alla disperazione se coccoli gli artisti in fascia in fasce non gli dà il modo e il tempo di crescere l'artista deve anche soffrire un po' non troppo ma un pochino è giusto perché può fare meglio degli altri purché la sua guerra non sia unicamente portata al proprio tornaconto personale perché il tornaconto non è di tipo economico è anche di tipo etico la voglia di affermare certe idee certe cose io non credo che Einstein per parlare di uno scienziato che non è un artista ma anche la scienza somiglia per certi aspetti all'arte abbia fatto la relatività per diventare ricco non ci pensava nemmeno quindi questo succede allora diciamo che io dopo le prime poesie mi posse una domanda che allora cominciava a profilarsi nell'aria e perché me la posi intanto vivevo a Venezia e vedi i romperi sulla scena veneziana in genere dell'arte internazionale la pop art personalmente la trovai una cosa molto interessante vedi a Venezia li avevo visti già qualche anno prima negli Stati Uniti avevo intravisto ancora avevo visto gli Stati Uniti soprattutto perché allora facevo il giornalista ed ero stato mandato dal mio giornale a fare un viaggio al seguito di John Fitzgerald Kennedy potrei fargli qualche domanda alla Casa Bianca dove fu invitato quindi tutte queste cose poi ripide l'anno uno o due anni dopo la pop art in piena espansione a Venezia la trovai una cosa potente così potente che io dissi tra me e me ancora non c'era l'Europa ma io avevo studiato un po' il romanticismo tedesco conoscevo il rinascimento non ero un italiano a 300 carate mi sentivo un po' europeo onestamente culturalmente perché a me ho molto la filosofia tedesca la musica tedesca la grande letteratura tedesca e anche l'arte tedesca così avevo un occhio attento alla Francia a tutte queste cose ho detto per noi europei è finita ancora di Europa non si parlava però culturalmente io già vedevo un'Europa coesa anche se oggi gli inglesi vogliono uscire per loro ragioni che non staremo a indagare dall'Europa ma cosa è Shakespeare? è un autore in tutto e per tutto europeo con un'apertura in più no? con un'apertura in più tanto è vero che anche sulla Brexit gli inglesi sono spaccati si sono divisi perché i più colti lo sanno capisco che gli interessi imperiali dell'Inghilterra li portavano altrove ma oggi l'impero non c'è più allora dicevo in quel clima di rinnovamento che c'era nel mondo io mi domandai se non era il caso di difendersi anche dalla pop-art non tanto per difendersi dagli Stati Uniti anche perché io capì che il discorso era anche politico e militare tra le righe cioè gli Stati Uniti ci avevano liberato dal nazismo e da Hitler però bisognava a quel punto liberarsi anche dai liberatori senza fare del facile antiamericanismo ma costruendo ricostruendo un'Europa dei linguaggi artistici e di comunicazione che in qualche modo noi potessimo scambiare con la grande cultura americana che intanto avanzava sulla scena internazionale d'altra parte c'era il cinema di Hollywood c'erano i grandi protocalchi come Life c'erano i fumetti c'era una società mediatica in accesa che non era quella di oggi ma certamente faceva presagire che si andava verso un tipo di comunicazione prevalentemente visiva ma si capisce perché perché gli americani avevano una cultura del loro paese quindi erano avvezzi a questo grazie al cinema che oltretutto l'avevano inventato i fratelli Lumieri in Francia ma loro l'avevano fatto loro agli inizi c'era un bel rapporto tra Francia e Stati Uniti pensate alla Statua della Libertà che fu donata proprio dalla Francia agli americani e i fumetti come facevano gli americani altrimenti a unificare il paese con l'inglese che lo parlavano soltanto i padri pellegrini non certo i contadini siciliani che migravano agli Stati Uniti gli ebrei di Odessa che scappavano dei pogrom non lo parlavano certamente i polacchi lo parlavano solo gli irlandesi ma gli irlandesi erano andati negli Stati Uniti letteralmente sfiniti dalla fame quindi non avevano molta forza anche intellettuale per collaborare questo è il mio paradosso chiaramente e allora io mi feci questa domanda posso sopravvivere io che ancora cominciavo a pensare alle arti visive posso sopravvivere la parola umana che è quella dalla quale scaturisce il pensiero umano quindi una reale creatività dell'uomo tant'è vero che Foscolo per esempio diceva non dico con disprezzo ma un po' con la puzza sotto il naso che Dante crea mentre Michelangelo copia perché Dante scrive e miocchia ora questo io credo che la forza di Michelangelo anche sul piano intellettuale creativo sia identica non è non ci sono graduatorie in queste cose ma questo Foscolo lo scriveva nell'ottocento allora mi sono domandato può la parola resistere all'urto mediatico di una società eminentemente visiva questa fu la prima domanda per questo io feci una serie di operazioni come per esempio le scritture verbovisive da alcune chiamate poesie visive da altre poesie visuali variamente denominate che avevano la funzione di veicolare una parola rinnovata dal suo rapporto con l'immagine pensata a un'opera come la Volkswagen non so se la mia assistente l'ha messa qui non c'è ma probabilmente molti di loro l'hanno vista nei libri di scuola e allora ho detto può sopravvivere la parola umana ma se non sopravvive la parola umana può sopravvivere la libertà degli uomini ora la domanda oggi ce la porliamo con una maggiore impellenza e drammaticità perché se voi vedete certe dichiarazioni fatte alla televisione nell'era di internet o certi messaggi mandati dal presidente degli Stati Uniti vedete che la parola è asciutta come un osso apparentemente diretta in effetti semplificatrice la riflessione non si crea semplificando le cose semplificarle per comunicare dagli altri va bene anche filosofi greci Socrate noi lo ricordiamo però ha detto so di non sapere ci ricordiamo quello e poi si aggrega il resto quindi può sopravvivere anche relativamente un'arte fatta di solo parole contemporaneamente vedete qui la Jacqueline ci arriviamo guardatela bene Jacqueline indicata dalla freccia si china sul marito morente allora io cominciai a dichiarare che la parola era molta devo dire creando un certo sconcerto perché questo detto da un poeta sia pure giovane persi l'amicizia di Eugenio Montano che era un mio estimatore e di tanti altri per la verità ma allora non ci si appoggiava al più forte la solidarietà tra giovani non cercava protezione e questo era un grande coraggio noi non cerchevamo padrini non ne avevamo bisogno recentemente un amico critico un grande critico mi ha detto ma tu non ti sei occupato mai del mercato veri Eugenio dico no pensavo di non averne bisogno questa non era neppure una presunzione per mia fortuna ho conosciuto tardi i meccanismi della propagazione della divulgazione dell'arte quindi avendo potuto sempre vivere di poco ed essendomi sostentato da solo non avevo debiti con nessuno per cui quando sono arrivati i grandi appuntamenti della vita ero pronto ad affrontarli e a reggerli mi ero fatto la scorza quindi non reagivo neppure alle cose che a volte non vere si dicevano su di me non le accoglievo neppure non le ascoltavo però ascoltavo molto volentieri le critiche giuste quelle le consideravo costruttive allora ho cominciato anche a cancellare non certo le parole in un primo tempo non certo per distruggere la parola in un'ottica dadaista onichilista ma semplicemente per portare a un livello assolutamente sterilizzato la comunicazione verbale allora si parlava di grado zero della scrittura Roland Barthes forse io non entravo completamente in questa casistica perché in effetti io non ho mai distrutto la parola la parola è anzi alla base di tutto il mio lavoro e il paradosso qual è che se devo mostrare un minimo di soddisfazione devo dire che strada da allora se ne è fatta perché quando le persone vedevano le mie opere con tante parole cancellate e poi la cancellatura in fondo diventava un fatto pittografico visuale quindi facevo regradire la parola alle sue origini quando l'uomo comunicava stampando la propria mano sulla caverna devo dire che tutto questo fu accolto con molto interesse dalle avanguardie guido le noci della grilleria polinera scivata qualche altro qualcuno si scandalizzò però devo dire che non posso dire che mi sono state sbattute le porte in faccia allora se uno veniva dissentito dissentiva veniva cercato proprio per il suo dissenso dai mercanti mentre oggi chi prenderebbe un giovane artista che dice che so non mi piace Hirsch non mi piace Kunze si entra subito in allarme sembra un attentato alle grandi istituzioni del mondo contemporaneamente mi sono accorto che grazie alla pop art che aveva fatto il pieno delle immagini cominciava a deperire anche la possibilità di vedere realmente le cose pensate alla Jacqueline di Andy Warhol è un'opera canonica come si poteva reagire a tutto ciò che ci facevano vedere per forza un po' come quando si mettono le occhi all'ingrasso per produrre del buon patè si poteva si poteva rovesciare il discorso io questo che pensai svuotando la comunicazione potente prepotente dall'interno in modo che fosse la mente umana a riscostruire l'immagine vedo quello che voglio vedere non ciò che vuoi tu questo era più o meno il mio discorso per esempio guardate certi particolari ingranditi Sofia Loren particolare ingrandito tante volte chi può dire che è vero o non è vero chi mi può smentire chi conosce il particolare chi la scala ingrandito decimila volte rispetto a quale particolare voi capite che a quel punto era impossibile dichiarare se una cosa era falsa o vera mi pareva che la grande civiltà europea fosse più incline a questo tipo di discorso che quella rispetto ad altre civiltà a loro modo evolute e importante dalle quali avevamo certo da imparare ma non ciecamente non supinamente perché se uno non mette in discussione gli altri non può metterne pure in discussione se stesso che è l'essenza dell'arte e della crescita culturale cosa mi restava da fare a quel punto c'era un rischio che a forza di dire in giro che la parola era morta molti mi prendessero sul serio e lo fecero devo confessare che quando io dicevo che era morta la parola dentro di me qualche dubbio ce l'avevo è di ciò a me stesso e se è una forzatura e se non è vero quello che sto dicendo come lo sostengo domani perché l'artista in quell'epoca era un po' portato alla riflessione se non critica autocritica quindi voleva capire dove stava andando il suo discorso dove stesse andando e se non è vero se non che finché più ero prudente più gli altri mi credevano forse perché dicevo le cose in maniera problematica facendole ma non imponendole in maniera categorica a volte anche ridendoci scherzandoci su io ricordo che era la stessa cosa che faceva Fontana quando gli parlavano dei suoi buchi lui era un uomo molto colto intelligente con una formazione cosmopolita che in qualche intervista si sente il suo tono non era il Brianzolo che parlava con l'accento del sindaco di Comabio che poi magari parlerà benissimo non lo conosco parlava proprio con un italiano pulito e non se parlava in benichino lo faceva per un vezzo non certo perché non sapesse parlare era un uomo colto e dava sempre risposte appropriate in linea con l'epoca quindi in qualche modo l'attitudine autocritica mi portò a considerare ciò che avevo fatto e se poi non è vero dovevo dimostrare in qualche modo da me stesso che il discorso che avevo affrontato era possibile e come lo fece all'inizio le mie cancellature erano cancellature nude e crude che però avevano una strana pittoricità io non me ne accorgevo chiaramente perché il mio scopo era apparentemente un altro era dire che non si poteva andare avanti c'era una vena chiaramente polemica anche se non sempre esplicitata però a un certo punto cambiavo il testo dichiaro di non essere Emilio Isgro e mi accorgevo che il dichiaro di non essere Emilio Isgro in fondo appartenevano a una grande tradizione culturale dell'Occidente che è quella omerica l'Isgro che dichiara di non essere è Ulisse un cosciamente Ulisse che dichiara di non essere di chiamarsi nessuno per sfuggire alle grinfie di Polipemo grazie a tutti Grazie a tutti.